Ciao a tutti, siamo qui nella cabina di prova da Lenzotti Strumenti Musicali a Modena e niente, oggi vediamo questi tre pedali che sono tre pedali dell'Electro Harmonix che è una gloriosa marca di pedali di New York che secondo me sono molto interessanti perché diciamo che danno una mano al chitarrista che vuole un po' esplorare altri suoni diversi da quelli della chitarra quindi dove non arriva lui, Electro Harmonix fa in modo che ci arrivi il pedale adesso sentiamo il B9 che praticamente è un pedale che emula i suoni dei famosi organi magnetici, elettronici, Hammond e quant'altro ed è molto interessante perché appunto permette al chitarrista che non è tastierista comunque di poter aggiungere dei suoni, dei tappeti, delle cose aggiuntive alle parti di chitarra che fa perché appunto sovrappone il suono di un organo a quello della chitarra a diversi tipi di voce, di organo ad esempio se uno vuole un suono gospel non fa altro che andare sulla posizione 3 richiamata qui dalla leggenda in cui c'è scritto gospel e avrà un suono se uno invece vuole un suono rock per dire alla e via di questo passo nelle varie voci non so, un bel organo continental anni 60 come abbiamo nella posizione numero 8 ciao a tutti da Wilco staff Lenzotti Strumenti Musicali Modena vi ricordo che potete sempre seguirci sulla pagina facebook e sul nostro sito www.lenzotti.com sul quale troverete tutte le novità costantemente aggiornate tutti i giorni quindi mi raccomando, keep in touch, seguiteci sempre, ciao